Iniziamo dalla 11 dove si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est, in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci in FIPILI, code per un veicolo fermo in avaria tra Navacchio e Cascina in direzione Firenze. Sempre verso Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandici. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, questa settimana è in programma l'avvio dell'asfaltatura in via De Buon del Monti. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!